I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura detentiva domiciliare nei confronti di due fratelli, di Bianco Luigi e di Bianco Maria Rosaria, imprenditori salernitani che gestivano una rete di supermercati in città. I due imprenditori arrestati sono accusati dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale correlati al fallimento di numerose società riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale. La G6 di Bianco Luigi e C-SAS, la 238SRL, la Consorzio 242SRL, la 850SRL, la PuntoSRL, la 132SRL, la Q7SRL, la Golden Market Salerno SRL, la Smart SRL, la Gruppo di Bianco SRL, la F124SRL e tali società avevano accumulato debiti insoluti per oltre 50 milioni di euro, tra cui debiti tributari per oltre 28 milioni di euro. La distrazione ha avuto ad oggetto beni e liquidità per circa 10 milioni di euro da società poi lasciate fallire. Si trattava di un'importante realtà imprenditoriale nella città di Salerno. Negli anni, infatti, gli indagati erano arrivati a gestire contemporaneamente anche 20 supermercati impiegando fino a 150 lavoratori dipendenti. Dietro il dichiarato intento di risanamento della società vi era in realtà l'obiettivo di evitare il fallimento di imprese che erano state già svuotate di tutte le loro attività e i cui punti vendita erano in realtà già gestiti da un'altra società sempre facente capo ai medesimi soggetti. Le ulteriori indagini delle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura di Salerno, hanno portato alla formulazione delle nuove più gravi accuse e all'adozione del provvedimento cautelare che mira a interrompere una gestione imprenditoriale fatta di distrazioni di beni e di fallimenti che nell'arco di 10 anni hanno generato un buco di 50 milioni di euro.